Protestano i lavoratori del magazzino Adidas di Piacenza. Oggi i sindacati CGL e CISL hanno organizzato un presidio davanti allo stabilimento nel polo logistico. Dopo il mancato incontro con la proprietà che alcune settimane fa ha manifestato la volontà di trasferire in toto l'attività del magazzino piacentino in provincia di Mantova. Chiediamo di avere un incontro che dia delle risposte ai temi che abbiamo posto nei due incontri precedenti. perché riteniamo che da parte di Adidas, che è lei che sta creando questo disagio a questi lavoratori, ci dà delle risposte per dargli un futuro come quello che si merita e non di portarglielo via e di metterlo nella scadenza come questa azienda sta facendo. I 200 lavoratori di Adidas purtroppo rischiano che al 30 giugno 2024 non avere più un lavoro. E forse anche prima perché abbiamo preoccupazione che le lavorazioni potrebbero in qualche modo comunque essere spostate in altri magazzini. Noi staremo qua perché vogliamo risposte certe di un prossimo incontro, perché noi siamo disponibilissimi a incontrarci di nuovo con Adidas, con Difarco e con MM Operation per trovare delle soluzioni. Una scelta che rischia di avere gravi ripercussioni per l'occupazione, visto che Adidas è presente sul nostro territorio dal 2003. A detta dei sindacati a rischio ci sono 200 lavoratori, tra cui 170 a tempo indeterminato.